Buon pomeriggio d'Anis, campionato di riunione regionali, d'antifici di Milazio del campo, il top è pieno gutubia via Slamessana. E' la seconda di andata, oggi 1 novembre 2022. Inizia a guarda! Gileo, Palermo, Russia e Formiga, partiti intanto. Al sesto minuto la Galia si invola sulla sinistra, volesse partire un diagonale, parata dal portiere, entra poi all'Icuoco e colpisce la traversa e poi il pallone viene definitivamente liberato. E' una conclusione di Milazio che non va tanto lontano dal versaggio. Al tredicesimo minuto arriva il bel destino vincente di Majorana che sblocca con il suo risultato portando in vantaggio la sua squadra. DPC 1, Messara 0. Al tredicesimo calcio di Brunziere la batta Bancheri, il colpo di testa da Bancherini non trattiene, entra il numero 11 Spadano e mette in porta il pareggio, il pareggio della Messana. Ancora una conclusione del ragazzo della Messana, ma il suo tiro va fuori. Dato 1 a 1 c'ha... E' un po' di fulgine per il pallone perché non sono in area. E' un po' di fulgine di fisico. Intanto Bancherini, Claudio Bancherini tira gol! Vado, 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 vado con l'ultimo di Claudio Bancherini. Un bel gol veramente, festa in festa! Tipici di vantaggio con un gol spettacolare di Claudio Bancherini. E poi su questa è la conclusione di Gennaro, gli ospiti reclamano il calcio di rigore. Pallone che stiove, in aria, attenzione, pericolosamente il colpo di testa di Arnò. E poi un pallone, attenzione, al numero 11 di casa. Gole, 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 ancora gole, ha segnato la galia, credo, se non poi è errato. 3 a 1. La galia, la galia, il coltieno è fuori, se non c'è, è la conclusione per il fulgine. E su questa azione l'arbitro assegna il calcio di rigore per la Messana. Il rigore lo batte Otteri, ma lo batte di centrale. Parata, parata, parata! Si muore le mani! Parata ancora di Bancherini. Bancherini che conclude con questa parabola, forse anche deviata, il portiere non riesce a trattenerla. Un gol, la corsa la Messana, 3 a 2. Di fatto, guardate, l'ultimo tocco è di Alipoda, numero 9 del DPC. Poi Bancherini un po', non è tanto luce, e il pallone spiove in porta. Ancora un pallone che spiove verso la forza di Bancherini, ma questa volta Bancherini parla. Bancherini! Bancherini che parla! Attenzione, 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 attenzione! Abbraccia! Bancherini che conclude con questo tiro che fa fuori. Ancora Bancherini impegnatissimo in questo finale di guerra. Ancora Bancherini a preparare l'ultimo pericolo per il DPC. Bancherini è qua, 3 a 2. Capista finale. DPC 3 e Stana 2. Perfetto finale. Sostavia sentirsi alle prossime puntatissime. Ciao!